faccio questo video per documentare questa scena questo video che sto facendo da libero cittadino lo farò vedere anche alle forze dell'ordine che stanno a presidiare piazza unità dato che domani qua è prevista una mega manifestazione da migliaia e migliaia di persone questa è la situazione accanto piazza unità dove dovrebbe avvenire la manifestazione sembra tutto bello servito per avere armi come vedete è chiuso da niente basta che io alzo qui e posso prendere tutto quello che voglio grazie non qui per